In apertura sempre all'emergenza coronavirus, l'Abruzzo si avvia ad entrare nella zona arancione. Infatti le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell'indice RT che oscilla intorno all'1 e 2. L'aumento dei contagi determinato soprattutto dalla forte incidenza della variante inglese in alcune zone della regione. Con questi dati la cabina di regia che si riunirà domani potrebbe infatti classificare l'Abruzzo in zona arancione. Strutture sanitarie intanto sotto pressione. Grande lavoro per i volontari del soccorso come ci riferisce la nostra Gigliola Edmondo. Buon pomeriggio Gigliola. Sì Fabio, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Pescara con Diego Martelli e siamo in compagnia del presidente regionale della Croce Rossa italiana Gabriele Perfetti. Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale della regione Abruzzo mostrano un forte incremento dell'indice RT che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati ricordo che la cabina di regia che si riunirà domani mattina non potrà che classificare l'Abruzzo in zona arancione come ha reso noto il governatore Marco Marsiglio. Se l'ordinanza del ministro Roberto Speranza verrà pubblicata sabato come probabile, la nuova disciplina scatterà da domenica. La forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, in particolare di quella metropolitana Pescara-Chieti per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell'ultima ordinanza del presidente Marsiglio sta facendo rapidamente risalire la curva dei contagi. Domani mattina il gruppo tecnico scientifico regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico. Verrà sottoposta a valutazione anche l'opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Atessa, San Giovanni Tiatino e Tocco da Casaudia. La Croce Rossa italiana, come sappiamo tutti, è in prima linea da sempre nel fronteggiare le emergenze. Ma Presidente Perfetti, come state fronteggiando l'emergenza dovuta al Covid-19 in Abruzzo? Se mi consentite intanto vorrei ringraziare i volontari della Croce Rossa italiana, in primis, ma i volontari anche di altre associazioni che stanno facendo un lavoro veramente straordinario, impagabile. A loro va davvero un abbraccio affettuosissimo e riconoscente. Siamo dalla primo istante impegnati in questa emergenza. Contiamo ormai centinaia di volontari per tutti i giorni dell'anno, impiegati costantemente, in diverse attività, in diversi presidi. Abbiamo partecipato e continuiamo a farlo nell'emergenza urgenza. Siamo presenti in diversi punti strategici, a fianco a quelli che sono i presidi ospedalieri, con i nostri pretriage. Abbiamo partecipato all'indagine di siero prevalenza, garantendo circa 20.000 telefonate su 5.600 persone che hanno partecipato all'indagine, riportando un 51% di adesioni. Siamo ovunque, per chiunque, quello che è poi il nostro motto. In questi giorni siamo con un presidio fisso, a forme. Garantiamo un'assistenza e soprattutto i tamponi e tutto il personale impiegato nelle ricerche. Continuiamo a garantire quello che è la Convenzione con la Regione Abruzzo per lo stoccaggio e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, oltre a quella che è tutta la strumentazione che è arrivata in Regione ed è stata distribuita ai diversi ospedali per rilevare e per curare i pazienti affetti da Covid. Aumentano i ricoveri negli ospedali abruzzesi, in particolare, dicevamo, l'emergenza nell'area metropolitana, nei Covid Hospital di Pescara e Chieti. Parliamo anche di assistenza domiciliare che è importante, vi vede impegnati costantemente dall'inizio dell'emergenza e non soltanto con compiti medici, sanitari, ma anche sociali. Quali sono le richieste che arrivano dal territorio? Noi garantiamo a fianco alle ASL anche alcuni servizi di 118, è vero, e quindi abbiamo il personale impiegato sulle ambulanze. Dall'inizio abbiamo una forte richiesta di quelle persone che sono state costrette a rimanere a casa, a specie le più fragili, e quindi abbiamo inteso intervenire con il tempo della gentilezza. Un progetto che è mirato essenzialmente alla cura e all'assistenza delle persone a casa, le persone che hanno anche difficoltà economiche, a loro il nostro aiuto attraverso la fornitura di farmaci, attraverso la fornitura di beni di prima necessità, alimenti, vestiario, calzature, ma poi ci occupiamo anche del trasporto o dello spostamento di quelle persone che non possono più contare sull'aiuto dei familiari. Noi siamo lì, a fianco alle istituzioni, ma soprattutto a fianco alla nostra gente, alle nostre comunità. Fabio, se non hai domande, io ringrazio il Presidente Gabriele Perfetti, ringrazio Diego Martelli e ti restituirei la linea.